Buongiorno a tutti, togliamo la mascherina visto che abbiamo la distanza di sicurezza. Io sono Monaci Roberto, titolare della casiera Monaci, casa in piccio di Almeno San Salvatore, dove produciamo formaggi a latte di mucca, di capra di nostra produzione. Raccogliamo il latte dal territorio della Valimagna e con questo produciamo tutti questi formaggi che state vedendo. Dal Branzi, che è il nostro fiore all'occhiello, fino ad arrivare alla formaggella Valimagna, alla caprella e a tanti altri tipi di prodotti. Dal taleggio fino a tutti i prodotti di capra e i nostri io. Ringrazio innanzitutto l'amministrazione coronale e l'assessore della Valimia per lo spazio che ci hanno voluto regalare, per farci conoscere ancora una volta dai nostri cittadini e da tutte quelle persone in questo brutto momento, in questo triste momento, hanno bisogno di un servizio in più. Un servizio che ci porta nelle case di molti nostri compaesani, anche dai comuni di Mitrofi, la spesa a domicilio. Questo servizio ci permette di andare anche in soccorso di chi purtroppo non può muoversi, ha dovuto stare alle rigide norme del lockdown, però da questo momento è un servizio che ci piacerebbe anche mantenere una volta finito tutto questo triste momento, perché veramente ci ha dato una grossa soddisfazione per tutti gli attestati di stima avuti dai nostri clienti sui servizi che abbiamo in perfetto. Appunto perché in questo periodo abbiamo dovuto entrare nelle case dei nostri concittadini, abbiamo anche ampliato i prodotti della nostra produzione e della nostra vendita. Quindi oltre a tutti i formaggi e i salumi, troverete parecchi prodotti del nostro territorio, tutti i vedi di prima necessità, come dire alla farina, al pane, allo stesso zucchero, al latte a lunga conservazione. Cioè sono tutti prodotti, magari logicamente non tutti i nostri prodotti, perché non possiamo logicamente costarci anche sul zucchero o tant'altro, ma che possono essere utili per tutti i nostri clienti. Quindi dal nostro punto di vista ringraziamo tutti, vogliamo fare un grosso augurio a tutti i nostri clienti di essere comunque positivi in questo periodo, anche se il termine positivo oggi giorno nessuno lo vuole rimarcare. Un grosso saluto a tutti e ancora un ringraziamento alla nostra. Ricordaci il tuo numero di telefono. Per le ordinazioni il nostro numero di telefono è lo 035 64 30 20, potete tranquillamente prenotare al mattino per la consegna subito al pomeriggio, oppure prenotazioni al pomeriggio per la consegna al giorno dopo. Ricordaci anche che tu sei uno di quelli che ha aderito per i buoni spesa. Sicuramente, anche di questo ringraziamo ancora la Ministra di Comunazione Comunale per tutto il lavoro che sta facendo. Siamo uno degli esercenti dove potrete spendere il buono spesa al comune. Vi aspettiamo. Il negozio è aperto comunque con i soliti orari, da lunedì a sabato dalle 8 alle 19 e la domenica mattina dalle 8 alle 12. Ti ringrazio Roberto, alla prossima! Ciao!